buongiorno a tutti sono sempre io sono sempre qua sono sempre sotto la solita pianta dove avevo nascosto quelli piccoli che vi avevo fatto vedere nei video precedenti e vi devo dire che questa volta mi hanno fregato perché quelli che avevo lasciato se li sono fatti tranne uno uno solo l'hanno lasciato è pieno di gente che è una cosa mostruosa comunque ora vi faccio vedere quello che ho trovato poi vado a fare un giro se trovo qualcos'altro ve lo faccio sapere questo è quello che m'hanno lasciato no 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 almeno ne vale la pena questo è bello e non l'hanno visto tutti gli altri me li hanno fregati fedenti malefici vabbè ci rivediamo dopo ciao il mio maschione eccolo camminando camminando mi ha detto papà guarda c'è un funghetto qui e guardare un po l'ha trovato lui io non l'avevo neanche visto ecco che arrivaron e il mio campione deve tenere anche il cane eccolo aiuto via ora vi saluto perché devo andare a recuperare il cane a dopo mi ha profumato tanto lo spacco in testa papà ciao Grazie a tutti.